Ciao a tutti ragazzi, allora questo è il mio primo video, il primo video che carico sul canale sono molto emozionata e anche contenta e niente, vi volevo fare questo primo video prima di partire con i video veri e propri giusto per darvi un'idea di quello che vi potete aspettare di trovare qui il canale si chiama Curly Makeup per due semplici motivi l'argomento principale del canale sarà il make up, quindi video incentrati sulla bellezza, sul beauty su tutto quello che può centrare con essa, con la bellezza e Curly ovviamente perché è una caratteristica che mi riguarda dati i capelli ricci volevo personalizzare il nome aggiungendo appunto questo aggettivo perché ho deciso di aprire il canale? e da in realtà tanto tempo che avevo questa idea e non mi decidevo mai ad aprire il canale insomma, un po' per timidezza, un po' perché non ero sicura di poter essere all'altezza un po' perché c'è sempre ovviamente il timore di magari non dare chissà che nuovi contenuti anche su YouTube, anche perché ormai su YouTube diciamo c'è veramente di tutto e diciamo veramente tante persone ormai hanno un canale però alla fine non ho niente da perdere mi sono voluta dare questa opportunità anche questo modo per divertirmi per condividere con voi una mia passione perché il make up è la mia passione da anni ormai potrei dire dalle medie quindi insomma da un bel po' di tempo per diciamo un bel po' di tempo ho aspettato nel senso che questa idea mi frulla dalla testa da un bel po' ma devo dire che ho veramente aspettato poi un po' diciamo spronata dalle amiche un po' da tutti mi sono lanciata e ho detto perché no? tante persone lo fanno, lo posso fare anch'io semplicemente quindi io spero che diciamo il canale possa i video che caricherò sul canale potranno essere in qualche modo interessanti spero diciamo di divertirmi nel realizzarli ma penso proprio di sì anche perché non vi ho detto ma io sono una diciamo grande utente di YouTube nel senso che seguo veramente tanti canali tante YouTuber e quindi il mondo di YouTube lo conosco bene da quel punto di vista quindi come utente mettiamola così e sono molto curiosa di vedere com'è diciamo la vita dall'altra parte dello schermo ecco mettiamola così quindi adesso io vi saluto vi mando whats up vi mando un bacio enorme e ci vediamo al prossimo video